Musica Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Dopo i disagi dei giorni scorsi al Vomero, causa voragine, si va verso una ritrovata normalità anche se non manca preoccupazione ed ansia. La buona notizia è che rispetto al fabbricato sgomberato il 9 febbraio in via Solimena 113 con il certificato di eliminato pericolo comunicato al servizio sicurezza abitativa è stato praticamente consentito a questo punto il rientro. Quindi oggi rientreranno finalmente questi 12 nuclei familiari. L'annuncio è stato dato da Clementina Cozzolino, presidente della Quinta Municipalità, che anche questa mattina era presente sul logo della voragine di via Morgan. I nuclei familiari furono fatti evacuare il 9 febbraio a causa di un dissesto che sarebbe stato poi eseguito dalla famosa voragine che si è aperta la notte del 21 febbraio. All'indomani della stessa furono evacuate 20 famiglie da un palazzo di via Morgan all'angolo di via Bonito. Su questo tema si registrano ritardi e continui problemi. In questo i tecnici hanno riempito la cavità tutelando i sottoservizi. È intervenuta la DADSRL di Grummo Nevano che ha usato la sostanza Geomix che eviterà tracimazioni verso l'edificio. Ma la zona anche dal punto di vista commerciale è ancora in ginocchio e non si placano le polemiche nei confronti della pubblica amministrazione. La cosa indegna invece è la mancanza e la presenza del nostro sindaco. È una cosa vergognosa. Non dico doveva venire verso le 9 e mezza alle 10 da quando è successo ma almeno subito dopo. Questa è l'unica cosa che mi dà veramente fastidio perché per me il sindaco ci rappresenta e per rappresentarci deve stare anche nei momenti e soprattutto in questi momenti. Non a fare le manifestazioni, a stringere le mani quando si vince, quando si perde abbiamo bisogno del sindaco. Nessuno si è fatto vivo, nessuno si è fatto sentire. Noi tutti in termini di attività commerciali, visto che la sua domanda iniziale era questa, stiamo sostanzialmente stringendo i denti per tentare di superare questo momento nella speranza che quanto prima possa essere ripristinato un po' tutto. Nel frattempo l'assessore comunale di Napoli e l'infrastruttura Edoardo Cosenza ha ringraziato l'ABC e i Vigili del Fuoco per aver lavorato tutti senza sosta per la cittadinanza. Ricercato arrestato dai carabinieri. Ha visto arrivare i carabinieri grazie ad un sistema di videosorveglianza e per sfuggire all'arresto è salito sui tetti dove però è stato raggiunto e bloccato. è ritenuto regato alla criminalità organizzata di Caivano. Il 32enne Gianfranco Bervicato, bloccato all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, l'uomo era ricercato per i reati di spaccio e resistenza pubblico ufficiale, si è sottratto a un provvedimento cautelare emesso dalla giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, dallo scorso 28 febbraio. Anche il capo della polizia Vittorio Pisani ai funerali del poliziotto Nicola Barbato nella chiesa di Teverola, tantissimi amici e rappresentanti delle istituzioni. Commozione, lacrime e chiesa di San Giovanni evangelista Teverola gremita per l'ultimo saluto al 61enne vice sovrintendente capo della polizia di Stato Nicola Barbato, medaglia d'oro al valore civile. Una malattia respiratoria ha stroncato la vita del poliziotto ferito a colpi di pistola nove anni fa durante un'operazione anti-racket nel quartiere fuori grotta di Napoli. Nel 2015 Barbato e un collega infatti intervennero per arrestare un estorsore di un clan che sparò ferendo gravemente il sovrintendente della polizia di Stato. Le ferite riportate lo costrinsero sulla sedia a rotelle. Barbato, a cui venne riconosciuta una promozione e la medaglia d'oro al valore civile del merito della Repubblica Italiana, lascia una moglie e due figli e entrambi poliziotti in servizio alla questura di Caserta. I funerali a Teverola, in provincia di Caserta, città di cui era cittadino onorario. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Con il questore di Napoli, Maurizio Agricola, è intervenuto alla cerimonia funebre anche il capo della polizia Vittorio Pisani, amico personale di Nicola Barbato, che ha atteso il feretro al suo arrivo all'esterno della chiesa. Per Nicola Barbato, anche il messaggio sui social del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'Oscar per il miglior documentario è stato vinto da 20 giorni a Mariupol. Il film racconta i primi giorni dell'invasione russa in Ucraina, l'assedio e la distruzione della città di Mariupol due anni fa. 20 giorni, ricorda Giovanni Sgambati, segretario generale della Will Campania di Napoli, fu presentato lo scorso 4 marzo proprio a Napoli, nella sede della Will Campania, prima volta al sud, con sottotitoli in italiano. L'assegnazione e la statuetta come miglior firma documentario dopo il premio Pulitzer è una conferma a non spegnere le antenne sulla guerra che si trascina ormai da due anni in Ucraina. Il 19 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni e fezzeggiato l'onomastico, Napoli si prepara a onorare il talento senza tempo di uno dei più grandi artisti nazionali e internazionali, Pino Daniele, con un evento straordinario che celebra la sua eredità e il suo contributo alla cultura napoletana italiana, il Memorial Io Sto Vicino a Te 69, il programma martedì 19 marzo al Teatro Palapartenope, prodotto dalla Non Solo Eventi di Rino Manna, patron del Palapartenope, rappresenta un contributo e un connubio di musica, artisti e amici che si riuniranno per ricordare e celebrare il grande artista di sempre. Tornare a riunirsi il Consiglio Comunale di Napoli in Via Verdi. Si è aperto con il minuto di silenzio per ricordare il poliziotto medaglia d'oro al velor civile della Repubblica Italiana Nicola Barbato, il Consiglio Comunale di Napoli. Prima di passare alla scaletta dell'ordine del giorno, la presidente dell'aula, Enza Amato, ha voluto dedicare un passaggio della seduta odierna al sovrintendente di polizia, rimasto gravemente ferito nel 2015 durante un'operazione antiracket a Napoli. È morto pochi giorni fa per una malattia respiratoria. Tra le proposte calendarizzate, quella per lo sviluppo del centro agroalimentare di Volla, a firma di Antonio Bassolino, l'intitolazione di una strada all'ex campione del Napoli Antonio Iuliano e all'attore Enzo Moscato, entrambi scomparsi di recente, è quella per il recupero del parco di Via Lago di Scanno nel quartiere Ponticelli, chiuso dal 2014, a firma del consigliere Demetrio Pai Pais. Un parco che è stato dismesso dal 2014, ma attualmente il teatro di degrado in Curia ha discapito anche dei tanti cittadini del territorio di Ponticelli. Quindi oggi con l'ordine del giorno chiediamo di riqualificare la zona attraverso una bonifica preliminare e una destinazione d'uso che potrebbe essere anche quella di una zona ricreativa per i bambini del quartiere. Abbiamo chiesto un incontro con l'assessore Baretta per poter intercettare dei fondi per riqualificare la zona. Tra le emergenze potrebbe emergere quella del maxiemendamento dell'anno prossimo. Tra le delibere approvate l'istituzione di un capitolato di spesa per i fondi stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile per l'applicazione di misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico nell'area dei campi flegrei, l'esecuzione poi di lavori di messa in sicurezza dell'area adiacente al locale tecnico nella curva B dello Stadio Maradona. All'unanimità è passata in chiusura l'ordine del giorno per il riconoscimento della cittadinanza onoraria all'ex direttore del Museo di Capodimonte, Silvain Bellegé. Feder Consumatori Campania ha inviato nelle scorse ore una lettera per pugno e a firma del presidente Giovanni Berrito a tutti i sindaci della provincia napoletana che ha come oggetto il mercato libero dell'energia. Con il termine del mercato tutelato del gas del 1 gennaio di quest'anno e l'imminente fine del mercato elettrico a partire dal 1 luglio 2024, la Feder Consumatori Campania ci ha tenuto a informare i primi cittadini delle scorrettezze commerciali e gli abusi subiti dagli utenti che mettono a rischio intere attività commerciali. Ancora un servizio, vediamolo insieme. Torna a Napoli per fare campagna acquisti la Lega. Sono lontani i giorni in cui il leader Matteo Salvini era costretto a tenersi lontano dal capologo campano a causa delle contestazioni. I tempi sono cambiati ed è di oggi la notizia del passaggio nella Lega di Salvatore Ronghi, presidente di Sud protagonista, un passato da vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e pezzo storico della destra cittadina. Troppo vicine le elezioni europee per una sua candidatura, Ronghi punta alle regionali 2026. Mai dire mai, mai dire mai, ma non sono candidato alle europee. Invece alle regionali posso già dire che mi impegnerò da oggi per aiutare a trasformare la regione dal folklore il quale viene gestito in una regione istituzionale che dà la risposta alla gente. Via De Luca, avanti col centro-destra e io ci sarò. Bene, grazie. Se gli ultimi acquisti del partito vennero ufficializzati da Matteo Salvini durante un incontro nella sede del circolo del tennis di Napoli a salutare l'ingresso di Ronghi nella Lega, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Abbiamo fatto un'aggregazione importante in Campania, li conoscete i nomi, Patricello, Barone, insomma altri che stanno arrivando, quindi credo che oggi attivamente si sta costruendo una bellissima squadra e forte e che darà risposte non soltanto a questi europei, ma il nostro obiettivo è cambiare questa regione e finalmente cambieremo questa regione. e faccio una grande promessa, non useremo i soldi della regione per fare campagna pubblicitaria. L'Oscar per il miglior documentario è stato vinto da 20 giorni a Mariupol. Il film racconta i primi giorni dell'invasione russa in Ucraina, l'assedio e la distruzione della città di Mariupol due anni fa. 20 giorni, ricorda Giovanni Sgambati, segretario generale della Will Campania di Napoli, fu presentato lo scorso 4 marzo proprio a Napoli nella sede della Will Campania, prima volta al sud, con sottotitoli in italiano. L'assegnazione e la statuetta come miglior firma documentario dopo il premio Pulitzer è una conferma a non spegnere le antenne sulla guerra che si trascina ormai da due anni in Ucraina. Il 19 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni e fezzeggiato l'onomastico, Napoli si prepara a onorare il talento senza tempo di uno dei più grandi artisti nazionali e internazionali, Pino Daniele, con un evento straordinario che celebra la sua eredità e il suo contributo alla cultura napoletana italiana, il Memorial Io Sto Vicino a Te 69, il programma martedì 19 marzo al Teatro Palapartenope, prodotto dal Non Solo Eventi di Rino Manna, patron del Palapartenope, rappresenta un contributo e un connubio di musica, artisti e amici che si riuniranno per ricordare e celebrare il grande artista di sempre. Codice della strage, così hanno definito la misura proposta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvino, gli attivisti di Napoli 30 che hanno dato vita ad un flash mob pedalando per le strade del centro storico. Codice della strage, così hanno definito la misura proposta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, gli attivisti di Napoli 30 che hanno dato vita ad un flash mob pedalando per le strade del centro città. I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Nicola Amore, scelta tutt'altro che casuale. Poco più di un mese fa, infatti, qui c'è stato l'ultimo pedone investito, ma la lista è lunga. Nonostante le morti, però, puntano il dito dal corteo, nulla è stato fatto dal comune. Gli attivisti hanno quindi raggiunto Piazza Plebiscito e davanti alla prefettura si sono seguiti gli interventi al microfono. Obiettivi della protesta? Ottenere lo stop al nuovo codice della strada e chiedere a Palazzo San Giacomo politiche di mobilità a favore degli utenti fragili, come spiegano Maria Teresa Dandolo, presidente di FIAB Napoli Cicloverdi, e Luca Simeone dell'associazione Napoli Pedala. Questa riforma nega la sicurezza stradale in primis perché per noi ciclisti annulla la distanza di un metro e mezzo nella strada dicendo all'automobilista soltanto di fare attenzione. Inoltre restringe l'autonomia dei comuni per determinare ZTL e aree pedonali e questo significa determinare soltanto delle aree vagamente ciclistiche che non si sa bene dove e come saranno fatte. Siamo la terza città più grande d'Italia, la prima per densità di popolazione e l'ultima per chilometri di ciclabili. Quindi è difficile pedalare a Napoli ma si potrebbe invertire questa rotta in un attimo perché nessuna città è nata ciclabile, si diventa ciclabile attraverso politiche che si devono mettere in campo. Ci sono le risorse, ci sono tutti i fondi del PNR e a noi, spiace dirlo, ma il Comune di Napoli sta perdendo queste risorse. Da domenica 17 marzo a martedì 19 marzo a 80 anni dall'ultima eruzione del Vesuvio si terranno tre giorni di visite guidate alla sede storica dell'Osservatorio Vesuviano e ai luoghi del vulcano, aperte alle famiglie e agli studenti delle scuole della zona rossa individuata dal Piano Nazionale della Protezione Civile. Il programma di eventi è intitolato Conoscere e vivere il Vesuvio a 80 anni dall'ultima eruzione. Pittura napoletana, il maestro Gianni Strino è mio padre, con lui ho lavorato fianco a fianco tutta la vita, è un anno che non c'è più e mi resta questo enorme patrimonio pittorico, figurativo italiano. Di mio invece mi sono laureata per protesta contro mio padre, come tutti i ragazzi, non volevo fare la pittrice, pensi. Per protesta mi iscrissi a scultura. Oggi mi dà la possibilità di vedere diversamente la superficie pittorica illusoria del quadro, per cui questo dipinto che sta in quella bidimensione e lì deve restare, mi è sempre stato stretto. Immaginavo dipingendo di andare oltre, oltrepassare questa superficie e quindi mi ci attaccavo, arrivavo fino al bordo estremo. I napoletani danno valore al proprio patrimonio storico-artistico oppure l'artigianato e l'arte napoletana sono più apprezzati all'estero? Sì, oggi di più. Sicuramente si sta svolgendo un movimento importante per il recupero dei talenti napoletani. La tradizione italiana-napoletana è precisa da sempre, è stata copiata in tutto il mondo, ancora oggi. Per quanto riguarda le avanguardie, in Accademia ce ne sono tantissime, anche quelle devono venire fuori ed essere conosciute sempre di più. Colgo l'occasione per fare un appello. Abbiamo proprio bisogno di essere ricercati, considerati, valorizzati e proposti. si deve lavorare, noi siamo vostri, un patrimonio. Io parlo a nome di tutti i colleghi e tutti i ragazzi che si stanno formando che devono credere in un futuro possibile qui a Napoli. Concorso per nuovi professori in Campania in 78.800 in Campania per partecipare alle prove del concorso iniziate oggi per l'assunzione di nuovi docenti per un totale complessivo di 1.987 posti per la scuola dell'infanzia e la primaria. I candidati in regione sono 21.000 per 388 posti con un rapporto tra posti e candidati dell'1,6%. Il più basso in Italia con una media nazionale del 13,24% per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I candidati sono 57.722 per 1.649 posti. Il rapporto è di 2,86%. Solo in Sicilia un dato più basso, il 2,22%. È di 150 persone identificate e di 10 esercizi commerciali controllati. Il bilancio dei controlli svolti nelle aree della movida napoletana nella giornata di sabato dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Ai controlli nell'Italia hanno preso parte anche gli agenti dei commissariati De Comani, Cagliano, San Carlo Larena, Dante, della divisione anticrimine e del nucleo ordine pubblico dell'ufficio di gabinetto e finanzieri della Guardia di Finanza. È notte di controlli sulla movida napoletana. I carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno presidiato il centro storico e il quartiere Chiaia assieme ai militari del reggimento Campania. Un 17enne o un 22enne sono stati denunciati perché portavano nelle tasche dei pantaloni un coltello a serramanico. Presso il Circolo Tennis in Viale Dorn, conferenza stampa di presentazione della Napoli Tennis Cup. Il grande tennis torna in città. Dopo la travagliata esperienza del 2022, quando a causa dei problemi agli impianti gli ATP 250 furono giocati a Pozzuoli, Napoli ci riprova ed ospiterà la Tennis Cup 2024, Challenger 125. Tra le principali stelle che calcheranno i campi in terra rossa sul lungomare, l'austriaco Tiem, ex numero 3 al mondo, e l'azzurro Fognini. Questa mattina, nella sala dei trofei del Circolo Tennis Club Napoli, la conferenza di presentazione della manifestazione alla quale hanno preso parte il presidente del Circolo, Riccardo Villari, e il direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santamaria. Ci tenevamo particolarmente a rendere stabile un appuntamento del circuito internazionale. Questo è il primo di tre anni, 24, 25 e 26, in cui Napoli ospiterà sempre nella stessa data un torneo internazionale e un ATP Challenge 125, che è il top della sua categoria. Avremo veramente campioni di altissimo livello che si affronteranno in questa settimana. Il cut-off è veramente di altissimo livello, per cui siamo convinti di avere un folto pubblico per tutte le giornate dell'evento. Abbiamo tenuto volutamente biglietti calmierati, proprio perché per certi giorni della settimana le scuole saranno chiuse e vorremmo creare una festa di grande sport e di grande tennis all'interno del Circolo. Un'iniziativa che, come ricorda l'assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, rappresenta uno step di avvicinamento al 2026, anno in cui la città sarà capitale europea dello sport. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di portare un centro federale a Napoli, che sarebbe davvero una grandissima soddisfazione. Stiamo immaginando che la location sia quella di Bagnoli, dove, sapete, c'è già in corso la bonifica, che speriamo nel giro di un paio d'anni possa concludersi. C'è già un parco dello sport che purtroppo è stato concluso, finito e mai inaugurato. Quindi ci auguriamo che in prossimità del parco dello sport davvero quella possa diventare una piccola città dello sport nella parte occidentale di Napoli. Grazie per essere stati con noi, una piacevole serata. Vi lascio al bello del calcio con luce Claudia Mercurio. Ma vi ricordo anche l'appuntamento con l'ente di ingrandimento mercoledì prossimo. Parleremo delle frane, parleremo della tutela del territorio, tanti gli ospiti in studio, un focus approfondito su quanto sta accadendo nel quartiere collinare, ma anche di quanto accade negli altri quartieri.